Emanuela Charpentier e Jennifer Duda hanno vinto il premio principessa dell'Asturia consegnato oggi a Doviedo in Spagna per la categoria ricerca scientifica e tecnica. La giuria in questa 35esima edizione era presieduta dal fisico spagnolo Pedro Miguel Enceniche. Entrambe le ricercatrici hanno studiato il modo in cui certi batteri si difendono dai virus che li infetta distruggendo il loro DNA, riconoscendone alcune caratteristiche specifiche. Questa metodologia permette di cancellare, attivare, disattivare e anche correggere qualsiasi gene, dando luogo a diverse applicazioni sia nella ricerca di base che in agricoltura, allevamento e biomedicina. Emanuela Charpentier, a 49 anni e francese, ha scoperto il meccanismo che consente di intervenire chirurgicamente sul DNA, titolare della cattedra presso l'Alexander von Humboldt Foundation. Jennifer Duda è americana e professoressa di biochimica e biologia alla University of California a Berkeley e ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca per rivelare i segreti del DNA.